I episodi che le cambiano, tra l'episodio poi ci metti che prendi gol subito lì su quella situazione, a volte ci sono delle partite che vengono segnate non da quello che è il calcio giocato, come diceva lei, da delle cose che vanno al di là di tutte le tattie, di tutti i giochi, di tutte le belle cose che si vuol dire e che poi noi avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo. Se vogliamo vedere la reazione della squadra in dieci, questo è stato notevole, il fatto però di aver preso due gol sul calcio piazzato il secondo, insomma addirittura sul primo, c'era ancora lo shock dell'episodio subito il secondo, però quello forse è stato notevole. Io andrei più su come abbiamo perso un paio di palloni, però poi loro hanno questa qualità purtroppo, negli spazi larghi, hanno questi uno contro uno che sono calciatori di livello top e giocano in squadre top, per cui c'è da fare sempre dei raddoppi che ti costringe un po' da passarti e non abbiamo mai concesso tantissime palle gol davanti a Donna Rumma perché poi sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, però ho sofferto su questi episodi di calci piazzati, dove sono stati anche un po' fortunati. Le conferme però ci sono state? Le conferme ci sono state tutte, proprio si è visto la squadra giocare un buon calcio, avere una personalità, si è visto stare benissimo in campo, fare quello che aveva contraddistinto questi ragazzi nelle due partite precedenti, c'era da confermare, c'era da far vedere che anche in questa partita qui eravamo capaci di pilotare le nostre possibilità dentro la partita e l'avevamo fatta. Il suo rammarico è anche il nostro, grazie. Il suo rammarico è anche il nostro, ovviamente, grazie. Sta arrivando Cambiaso, eccolo. Il suo rammarico è anche il nostro, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.